Questa sera, che programmi hai? Fai la tua scelta. Buona visione con le prime serate Rai. Insieme noi siamo gioia, siamo famiglia, siamo calore. MCZ, tutte le anime del fuoco. Mi piace chi riesce ad apprezzare il tempo. Mi piace chi si prende cura della terra, qualunque essa sia. Mi piace chi la pensa come noi, come questa mela. Melinda, mi piace di più. Ma davvero il pescetto fa tutto questo? Di più, guarda pure le serie TV. Come fa a capirle? A quel sottotitolo. Mette lì, scegli la superfibra per guardare le serie TV. In più hai Amazon Prime incluso per 12 mesi, a 22,99 euro al mese. In esclusiva per i clienti Wind3. Ma sta cercando di dirci qualcosa? Non lo guardare, sta spoilerando. Ti dice il finale della serie, non lo guardare. Solo latte fresco 100% italiano e finissimo cacao. Nella nuova ricetta degli abbracci più buoni di sempre. Senza fretta. Senza tacchi. Senza bicchiere. Senza parole. Senza ombra di dubbio. Campari Soda. L'aperitivo senza etichette. Dal 1932. Alte! Fermi tutti! Scusatemi! Per il là, mi suonate qualcosa di più allegro? Molto bene! Oh sì! Lexa, aggiungilo alla mia playlist Allegria. Aggiunto alla playlist Allegria. Nutella B-Ready. Croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella. Ma, ma, andiamo. Don't worry, B-Ready. Acqua e sapone news! Offerte di un altro pianeta! Quale pianeta? Sì, Saturno. Saturnia! Sì, le terme. Linea A? Emanuela Folliero! Grazie ai nuovi deloranti Spray, Neutro Roberts e Codeo. Sono zero sali, zero gas, rispettano la pelle e proteggono di più il pianeta. Li trovi a 1,99 euro. Spray e Rolon sono a 1,79 euro. Solo d'acqua e sapone, con due prodotti Neutro Roberts, di cui un Deo, in omaggio un Vini Deo Spray. Vale, che look amaliante! Merito di Max Factor. Il fondotinta Max Factor Face Finity Flawless 3 in 1 è solo a 12,90 euro, per un look che dura a lungo. Miracle Tacia è solo a 12,90 euro. La sua formula si trasforma da solida e liquida e dà un aspetto fresco e uniforme. E solo d'acqua e sapone, con ogni fondotinta acquistato, in omaggio il correttore stick. Andiamo ai saluti! Fran, ci sembri un uomo venuto da un altro pianeta, tipo un alieno. Sì, è la Marte. Sono sempre l'ultima a sapere le cose. Acqua e sapone, oltre la convenienza. L'acqua che ho scelto è un'acqua amica delle mie ossa. È Uliveto! Uliveto! Bevuta nell'arco della giornata, Uliveto fornisce un equilibrato apporto di calcio. Di calcio! Uliveto, Uliveto! Un'acqua buonissima! È amica delle mie ossa! Delle ossa! La storia mai vista degli investigatori della DIA. L'FBI italiana, progettata da Giovanni Falcone. Giovanni ce la bisognerebbe organizzare qualche cosa che sogni all'EFBI. Vengono da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Lavorano nell'ombra, catturando latitanti e facendo centinaia di arresti. Fare questo lavoro è stata una scelta di vita. Sono in via dal 1992 e mi sento ancora figa nella strage di Capaci. Lui immaginò tutta una serie di novità organizzative che venivano chiamate comunemente oggi il metodo Falcone. DIA 1991. Parlare poco, apparire mai. Venerdì alle 21.20 su Rai 3. Io lo so di averti delusa e so quanto stai male per quello che hai scoperto. Deve essere stato terribile. Io non avrei mai voluto farti questo. E tu hai tutte le ragioni per avercela con me e di disprezzarmi. Mamma, io non ti disprezzo. So quanti problemi avete avuto tu e papà negli ultimi mesi. C'era anche io qui. E so quanto ci stavi male. Ma non è facendoti un amante che risolvi le cose. Anzi, le peggiori e basta. Mamma, tu devi parlare con papà. Non puoi continuare così. Non è giusto, non se lo merita. E soprattutto io non voglio essere tua complice. Hai ragione. Ti ho messo proprio in una bruttissima posizione. State insieme da una vita poi. Non puoi chiudere così. Se è questo... No. Ma... Grazie.